Cari spettatori, vi do il benvenuto su questo canale. Prima di immergerci nelle ultime notizie, vi invito a iscrivervi e ad attivare le notifiche, così da rimanere sempre aggiornati sulle prossime notizie e scoperte che ci attendono. E se il contenuto è di vostro gradimento, lasciate un mi piace. Grazie. Oggi ci occupiamo di una notizia che ha suscitato molto clamore e curiosità. Una notizia che riguarda una figura ben nota nel panorama giornalistico, Bianca Berlinguer. Negli ultimi tempi, il mondo dell'informazione e delle notizie è stato, più o meno direttamente, travolto da una serie di polemiche e discussioni, molte delle quali hanno avuto come epicentro figure pubbliche e personalità del giornalismo. Questo contesto tumultuoso è stato il terreno fertile dove hanno attecchito e prosperato notizie false e ingannevoli, le cosiddette fake news. E nel vortice di queste turbolenze informative, oggi ci troviamo di fronte a una nuova, sconcertante bufala. La nostra storia inizia con una diffusione virale, una notizia che si è propagata con una rapidità inquietante. Questa volta, stranamente, la notizia non ha avuto origine dai soliti social network, terreno comune delle più fantasiose e assurde bufale. Invece, essa ha visto la luce in un video pubblicato su YouTube, un contenuto evidentemente creato e condiviso con l'intento di catalizzare l'attenzione, generando visualizzazioni e, di conseguenza, entrate pubblicitarie. Il video in questione è permeato da una serie di affermazioni e supposizioni gravemente fuorvianti e infondate riguardanti Bianca Berlinguer. Frasi e immagini sono state assemblate in modo da creare e alimentare una storia drammatica e completamente falsa sulla sua salute. La notizia, o meglio la non-notizia, suggerisce che Bianca Berlinguer sia morta, alludendo inoltre a una misteriosa e non specificata malattia. Vogliamo fare chiarezza su questa questione. Dopo accurate verifiche e approfondimenti, possiamo affermare con certezza che queste dichiarazioni sono completamente prive di fondamento. Non ci sono prove né fonti attendibili che possano confermare o anche solo suggerire la veridicità di tali affermazioni. Bianca Berlinguer non ha mai rilasciato dichiarazioni che possano in qualche modo avallare queste voci perturbanti. E ora arriviamo alla rivelazione più cruciale di questa storia. Dopo aver navigato attraverso un mare di dubbio e disinformazione, possiamo finalmente svelare la verità. Tutto ciò non è altro che una bufala. Sì, avete sentito bene. Non c'è alcuna malattia misteriosa. Non c'è tragedia. C'è solo la manipolazione delle informazioni che mira a generare confusione e caos. Con questa chiarezza ristabilita, ci avviciniamo alla conclusione del nostro viaggio informativo di oggi. Ora, siamo curiosi di sapere cosa ne pensate. Vi invito a condividere le vostre opinioni, riflessioni e commenti qui sotto, partecipando attivamente alla discussione e contribuendo a mantenere viva e autentica la comunicazione. Grazie per averci seguito e ricordatevi di iscrivervi al canale per non perdere le prossime notizie e aggiornamenti. A presto.